Il grano duro dei campi geloi ed il pane di gela è il tema dell'incontro promosso dall'Associazione Culturale e gli Amici di Antifemo ed Entimo in collaborazione col Comune che si darà giovedì 26 novembre alle 17.30 nella Pinacoteca del Palazzo di Città. Prevista la partecipazione tra gli altri di Pippo Leonardi, primario del reparto di gastroenterologia dell'ospedale Vittorio Emanuele e di Paolo Guarnaccia del Dipartimento Agricoltura, Alimentazione ed Ambiente dell'Università di Catania. Grazie a un'associazione di gela, agli amici di Antifemo ed Entimo si sta riprendendo una vecchia tradizione per quanto riguarda la produzione di un grano antico tipico delle nostre zone. Un grano dalle proprietà organolettiche eccezionale, un grano che può dare origine a delle farine che posso dare risposta anche a molte persone che sono intolleranti al glutine. Questo è un processo importante perché bisogna dare i giusti riconoscimenti nelle norme di legge ai prodotti territoriali, ai prodotti biologici. In queste culture non sono previste l'uso di antichittogramici. Questo nell'ottica di uno sviluppo compatibile e sostenibile con il territorio, nell'ottica appunto di agevolare, favorire, promuovere l'utilizzo dei prodotti locali, quindi nell'ottica del chilometro zero e del prodotto biologico. Il grano duro dei campi geloi, questo è il titolo del progetto che l'associazione culturale Gli Amici di Antifemo ed Entimo ha iniziato sin dall'anno scorso con la semina della varietà russello che è una delle tipologie dei grani antichi che nella nostra piana da, oserei dire, da millenni perché ai tempi dei greci il grano veniva prodotto e di questo venne una testimonianza presso il nostro museo perché sono stati ritrovati dei chicchi di grano antichissimo che si trovano presso il nostro museo proprio a testimoniare. Chiaramente non è quella la varietà, questa è una varietà che veniva seminata fino a una ventina di anni fa.